Sono in attesa di telefonare, prego. È un gioco che fa vincere i migliori, giocalo insieme a noi. È un gioco che fa vincere i migliori, giocalo insieme a noi. Evviva! Eccomi qua con le concorrenti Berloni. Allora, signora Franzolini. La L di Loredana. La? L. L, la L. Allora, sentiamo che sta telefonata. Quanto vale? Dieci milioni, prego. Pronto? Ti ho sentito cantare O Zappatore. Mi hai proprio commosso. Come? Tu non sei il cantante, sei quell'altro. Oddio, scusa. Beh, avete lo stesso cognome. Allora, signora. O Zappatore come punto di riferimento, una famosa canzone napoletana, di uno che ha un cognome, ma è un altro cognome. Di più non posso dire perché non posso regalare i dieci milioni. Caputo. Come? Caputo. No, Caputo. No, Caputo. E Merola. Mario Merola. Mario Merola. Invece era Valerio Merola, che ha lo stesso cognome del famoso cantante di sceneggiate napoletane, tra le quali Zappatore. Quale ha scelto lei? La L. La L. Benissimo. Allora, la L. Vada, signora. Allora. La L. Grazie.